E' tutto pronto per Epoca by Night, il concorso di eleganza per auto d'epoca ASI che si riproporrà a Pesaro il 2 agosto in una quinta edizione che aggiunge Villa Caprile alla tradizionale location della Palla di Pomodoro. Alla mattina quest'anno la manifestazione inizierà da Villa Caprile dove saranno e arriveranno tutte le auto del concorso, saranno selezionate dai giudici e poi ci si fermerà a pranzo a Villa Caprile e poi a metà pomeriggio le auto saranno trasferite alla Palla di Pomodoro dove saranno tutte posizionate nell'area verde e quindi sul prato e continueranno i giudici a visionarle perché loro dovranno fare una classifica per modello e per anno di costruzione per poi l'assegnazione delle coppe finali e dei premi finali. E' la quinta edizione, le prime tre edizioni erano partite facendo una mostra statica, invece l'anno scorso abbiamo fatto il primo concorso di eleganza calendario ASI e quindi a questo punto le cose sono andate bene a tal punto che ASI poi ci ha riconosciuto anche un premio e quest'anno ci siamo replicati cercando di fare ancora meglio, cercando di selezionare le macchine più importanti che siamo riusciti a reperire tra tutti i 300 club ASI che ci sono in Italia. Come regolamento ASI le macchine non possono essere portate per due anni consecutivi, per cui fatto un'edizione praticamente si riparte da zero e bisogna trovare altre macchine, chiaramente l'impresa è abbastanza complessa perché la selezione è importante, cerchiamo di trovare delle macchine molto importanti è un lavoro che è iniziato un anno fa con contatti ripetuti con i collezionisti, per cui le 43 macchine che noi presentiamo suddivise per categorie sono macchine abbastanza importanti e si va dal 1929 al 2003. Quindi cerchiamo di dare un panorama abbastanza ampio ma abbiamo ben sei anteguerra e abbiamo 14 macchine che vanno dal 40 al 60 quindi sono diciamo quelle tra virgolette più prestigiose. Fra le 43 auto d'epoca presenti anche qualche chicca assoluta. Questa macchina è una Rolls Royce Phantom 2 Pininfarina, è un modello unico, è una macchina che ha 90 anni, è passata soltanto per quattro mani è stata fatta diciamo comprando un telaio e un motore da Rolls Royce e poi Pininfarina l'ha costruita e l'ha consegnata al proprietario che è uno di Torino. C'è la targa originale, è stata restaurata nell'87 e dal 92 di questo proprietario è una macchina che ha partecipato a tanti concorsi, abbiamo anche ad esempio un Alfa Romeo 6C 2005 freccia d'oro che è una macchina molto bella, una Lancia Stura, insomma ce ne sono di macchine importanti ce ne sono tante poi chiaramente c'è un vincitore per categoria e poi la migliore di tutte sarà la Best of Show.